Mizzica ragazzi oggi siamo a Sciacca nel chiamato così l'aeroporto fantasma guardate un po' che c'è, la novità mia è che c'è il pinball, guardate un po' l'aeroporto fantasma che una volta quando c'era la guerra mondiale c'era un vecchio l'aeroporto nascosto e ci sono pure i resti dell'aeroporto guardate un po' questa era proprio tutta roba antica Nico, vieni qua Nico che vediamo c'è anche il bunker bellissimo guardate un po' cosa intendo dire di vieto e accesso senza maschera perché non c'è nessuno per adesso ci fanno inciare però di solito non si entra qua qua il divertimento dei ragazzi è assicurato ragazzi guardate che c'è sportivo punto di guerra bellissimo minchia bellissimo ragazzi insomma si può giocare alla guerra qua si può giocare alla guerra e c'è pure un bunker guardate guardate che il tempo passa guardate che bella azione di guerra ecco il bunker ragazzi bunker dove si nascondevano i soldati nella seconda guerra mondiale ragazzi sciacca in sciacca abbiamo questo potete venire a trovarlo è vicino alla chiama di sciacca dove c'è la pompa di benzina è bellissimo che bello bunker davvero affascinante qui si gioca alla guerra con delle pistole finte che sparano del colore così bellissimo ok Nicole andiamo va bella bella